Vedo le luci di tutte le vetrine, un cielo di stendine, sugli alberi sento le voci di questi mille anni che stanno andando via. Ho bisogno di una magia, ho bisogno di una magia. Allora oggi farò il video di come ho decorato la mia stanza tra cucina, camera della prima mamma, il salotto e tutto quanto. Quindi adesso vi mando subito al video, vi lascio al video dove vi spiego come è decorato la stanza e tutto quanto. Ora vediamo qui, ho fatto una magia. E poi vediamo qui, ho fatto una magia così. Facendo tutto il basilotto Dopo anni va diventato messo questo apete che mettiamo elementi semidiversi Ogni anni va diventato diversi Quindi quest'anno abbiamo messo, dopo li cambiamo, ci mettiamo diversi colori ogni anno Poi abbiamo messo il sapone di... con il peberello Poi abbiamo messo questo Che va diventato dentro, ci metti la candelina Adesso non c'è, poi ci metti la candelina, vedete Comincia a fare tipo... Farò di mente luce tutto quanto Questo, adesso faccio vedere, guardate Metto questo, accendendo la candelina Adesso non accendo perchè comunque c'è dentro il sacchini che fa tutto quanto luce E niente, questo è un po' Allora qui, come dicevo, abbiamo attaccato un fiocchettino colorato così Nulla di particolare Qui, ma di mente abbiamo messo nulla di particolare Perchè comunque non volevo mettere niente di particolare Perchè comunque non volevo mettere niente di particolare Per dover andare a procedere anche sotto Mi ha fatto sotto Ha messo il cavallino Così Poi ha messo qui così E poi va lì ci sono tutte le palline messe così E poi lì c'è così Qui c'è il presepe Che ovviamente mancano ancora le luci da attaccare Perchè vi metto tutto quanto Però alla fine sarebbe così Vi metto tutto quanto E poi la faccio vedere Anche un po' più da vicino Così, vedete E lì mancherebbe adesso dopo Poi abbiamo messo questo Lì buon Natale Lì va di mente un'altra calza Poi lì abbiamo messo Non è bello Veramente così Vi metto i cioccolatini E adesso faccio vedere un attimo Arrivo E qua mi metto le cose natalizie Vedete Tutte le cose veramente natalizie Vedete Tutte cose così Quindi questo è un po' come vi ho trovato Vedete la stanza Adesso vi faccio vedere anche il bagno Come ho trovato il bagno Vedo subito Qui c'è quella fine del video Vado un giocatore a tutti quanti E nel prossimo domassi Vado un giocatore al prossimo video Ciao